cos'è lo sfruttamento tossico del girl power? signori quando avete qualcosa da voler vendere un prodotto cosa e magari il contenuto non è poi tanto buono che cosa fate? schiaffate un nudo di donna in primo piano vedete? possibilmente con delle bocce giganti questo è lo sfruttamento tossico del girl power si può fare pure con un maschio questo è sicuro ma la maggior parte delle volte viene usato un corpo femminile possibilmente con due bocce pure diciamo abnormali cioè talmente grosse che solitamente una donna non ha ti va bene così? ti denuncia per molesti sessuali? ma no e perché? ti ho fatto fare la modella? ti ho fatto fare la cosa? a me non mi interessa quello che sei tu o non sei tu interessa soltanto il tuo corpo ma sfortunatamente però la parte buona non ci stava potevamo pure levarci la capa però il corpo è sempre quello non so se ci avete presente adriano la serie vento oppure che ne so che faceva veramente schifo e allora che cosa hanno fatto per riequilibrare la situazione ci hanno messo in un ritorno oppure che so i film di sorrentino in cui inquadro sempre soltanto il corpo ma senza la testa delle donne e tu che cosa mi vorresti dire con quegli occhioni che tieni? cosa? ma da quando è che non ti lavi? se guarda qua ci sono cresciuti e ragnatele dentro e tu fatti cazzo tu hai fatto tempo che non ti lavi? ma io sono orgoglioso di quello che sono puzzo è vero io puzzo di sudore sangue e fango ma ne vado orgoglioso tu invece devi sempre apparire come la più perfetta la più cosa perché se non ti guarda nessuno io sono un maschio e tu sei una femmina nona donna sei soltanto un animale sopra un tavolo di obiettivo questo video comunque faceva schifo eh tanti saluti eh staccate